1-0 e palla al centro. Il TAR di Salerno, che ha accolto il ricorso di Blanchard Illumination, scompiglia i piani del Comune per la gestione delle luci d'artista, dopo che la IREN di Torino si era giudicata il bando triennale redato da Palazzo Guerra. Per i giudici ci sono evidenti conflitti di interesse, considerando che la società piemontese è socia della holding cittadina Salerno Energia. Un cortocircuito tra la stazione appaltante, cioè il Comune di Salerno, e il soggetto aggiudicatario che ha spinto i giudici ad accogliere il ricorso presentato dai francesi. Nessun commento per adesso dal Comune, che ha incassato un duro colpo, anche l'immagine oltre che sostanziale. Il legale della IREN, Lorenzo Lentini, sta preparando il ricorso al Consiglio di Stato. L'obiettivo è confutare la tesi che una cointeressenza societaria, anche per il tramite di società partecipate, violerebbe i principi di imparzialità delle gare pubbliche. Tradotto, la IREN, che è socia di Salerno Energia, di proprietà del Comune, si è presentata con un palese conflitto di interesse. Durissimo il commento delle opposizioni che hanno attaccato l'amministrazione cittadina. Purtroppo un'altra sciagura che si abbatte sulle sorti del Comune di Salerno, un'altra scelta folle di questa amministrazione, l'avevamo già detto a più riprese. Un grande danno anche temo economico, perché potremmo rischiare anche risarcimento di danni importanti. Quello che voglio dire è che basta con queste scelte scelerate di chi ci governa, che poi ricadono tutte sulle tasche dei cittadini salernitani. Purtroppo le sciagure di questa consigliatura e di quelle precedenti le pagheremo per i prossimi 50 anni e questo non va bene. Noi continuiamo a denunciare e a dirlo che non ci giriamo dall'altra parte.